Siamo giunti alla conclusione che devo tagliarli di tutti qua Giorni fa, mentre registravamo un vlog A proposito, seguiteci su Instagram per vlog giornalieri C'è salito un dubbio Ma noi, i capelli, adesso non possiamo tagliarceli È un problema, perché considerate che io l'ultima volta che mi sono tagliato i capelli Era prima di Natale Insomma, come facciamo a tagliarci i capelli se i parrucchieri sono tutti quanti chiusi? Ci tagliamo i capelli a vicenda Quindi oggi impareremo a tagliarci i capelli Impareremo, ci proveremo, mettiamola così Sì, ci proveremo, perché noi non sappiamo assolutamente nulla Quindi, quale metodo migliore per imparare a tagliare i capelli se non guardando un video su YouTube? No, sai se c'è un video di 5 minute? No, ascolta, no, 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 non ne voglio neanche sentire parlare Delle misure 3, 6, 12, 15 Ma cosa sta dicendo? 12, ma cos'è? Ternalotto Macchina 0, 0, ma cos'è? Come tagliarsi i barbi a capelli da soli in casa Mamma se sono brutto Bello come inizia Ma che prendiamo gli attrezzi, vecchio? Cosa vuoi? Ma almeno da averli qua, così capiamo qualcosa Fatto Ok, questo è uno E basta Il pettine, la forbicina, lo spruzza acqua Ma scusa Come se è vecchio questo? Non sei mai... Questo basta, avanza, cos'è? Ascolta, siamo qua da mezz'ora a cercare un taglio Non c'è Appunto, basta Allora, chi vince taglia i capelli all'altro per primo Sasso, carta, forbice Che farò ancora sasso? Sasso, carta, forbice Sasso, carta, forbice Welcome, welcome, my friend Welcome to the shop Welcome Sit down, my friend I will cut your hair and penis Posso dire che c'ho ansia La prima cosa che intendo fare nel mio salone Di solito è questo Ah, è fredda, è fredda Ciao Sei freddi È gelata È gelata Ascolta, mi sta colando tutta l'acqua adosso Cioè, perché altro non capisco dov'è il... La separazione dei capelli, dov'è? Ce l'ho qua Deve esserci una separazione netta, vero? E una domanda Ok per il lato Ma come intendi fare per il dietro? Queste sono domande Ma qui non so nemmeno io la risposta Allora, ci siamo Ma basta, ma continuano a scappare dei capelli Io la mia soluzione è... Scappare Cioè, scusa Sì, tra i due La tua soluzione è scappare Vi prego, lasciate un mi piace per questa tortura Everybody Non l'ha tagliato il c***o Ma non devi usare quello, è per la barba quello Madonna mia, ma con chi sto... Ma con chi sto registrando video del genere? Partiamo dalle sopracciglia Sento robe che mi toccano l'orecchio e mi fanno paura Rido per non piangere Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Sono sicuri che sia per tagliare capelli sta roba? No Cioè, non capisco... Ascolta, dammi lo specchietto un attimo Ascoltami, perché? C'ho dei buchi Cos'è sta roba? Io qua li sento corti, qua lunghi Qua mesi, qua corti Fammi una foto per piacere Fammi una foto Mi sa che qua... Fammi una foto! Comunque le rifiniture quelle sì, io le farei dopo, vecchio Ma allora fai qualcosa! È qua che non so come tagliare io Perché è sopra l'orecchio, capito? E se tu inclini così, tagli roba in più Deve essere dritto Fammi vedere È pieno di buchi! Ma, vecchio, è la fotocamera che aumenta un casino Ma lo vuoi capire che devi fare così? E che sto facendo avanti? Tu secondo me fai... No! Lo sai vero che noi dopo con questi capelli dovremmo registrare altri 2000 video? Esistono i cappelli Non hanno la punta arrotondata Occhio Ti giuro, ogni volta che stai per tagliare mi viene un'ansia che tu mi tagli un pezzo d'orecchio No, 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 no Ascolta, posso vedermi? Io non lo farei, forse posso... Ascolta, c'è di peggio Ma sei impazzito? Guarda la differenza tra questo e questo Ma non ho finito! Ti ho detto che dietro l'orecchio è un casino Ah, tengo a precisare che è la prima volta che taglio capelli nella mia vita Stessa cosa per lui, ma lui non l'ha ancora fatto Non penso l'abbiano annontato Ma qui sono ancora lunghissimi! Ma va che va bene, io non capisco cosa hai Sono un frate seriamente Non so come tagliarlo Sono seriamente un frate! Un frate! Ispirati a questi Ma dove? Ma dove? Io sono questo puzzaculo e basta, lo capisci? Fammi vedere Matteo Bruno Siamo giunti alla conclusione che devo tagliarvi di tutti qua Allora io da quella videocamera vedo che qua c'è un buco enorme Perché? Eh, ci sta Bravo! Bravo! Dai, dai, dai vecchio, dai che fai un'opera d'arte Dai! Io ho paura Oh bene vecchio qua, non ho idea Dico, non ho idea Amici telespettatori, io piango Aspetta, forse ho trovato qualcosa Aha, aha Ok, ho trovato il principio Giorno 12 della quarantena Le cose sembrano andare a rotoli Ma smetti di appoggiarmi il pisello sulla spalla Il mio parrucchiere se n'è andato Mi ha lasciato qui da solo Nel panico Completamente terrorizzato Basta, basta Ma intendi anche tagliarmi i capelli prima o poi o giochiamo a Barbie tutto il giorno? Ascolta, ho un impegno, mi sono ricordato adesso Da qua non si torna più indietro amici Guarda di là No, era una brutta idea, era una idea di merda questo Sapevo che tu non saresti stato in grado Mi sto impegnando Ti stai impegnando a fare il canestro con i capelli nella mia maglietta? Tutto nella maglietta, vai Dai, ahia Perché non si tagliano i tuoi capelli? Perché devi svuotare Ahia, Dio Io devo capire un attimo Mi sa che qua te li devo proprio tagliare Ma dopo vedrai Ma qua cos'è? Ma devo tagliarlo lì ancora Tu hai detto Ma poi qui Questo non so Come non so? Se mi tagli le sopracciglia ti ammazzo Mi serve un asciugamano Non disponiamo di queste cose nel bar Super scioppa Cioè La gente usciva con capelli migliori da Auschwitz Va bene Beh dai Finora sta procedendo decentemente Finora hai fatto tutto bene per favore Non facciamo cazzate Posso fare una prova? Eh, non esistono prove in questo ambito lo sai Grazie Barber Guarda avanti Guarda avanti Guarda Avanti o giù Ragazzi ho paura Ce la farà il nostro freddo? Spero proprio di sì Basta tagliare Cioè allora se ti sfoltisco Tipo qua Cos'è sta merda? Guarda che te li ho tagliati Qua Cos'è sta merda? Oddio ancora stai tagliando C'hai una zona dei capelli che non è È una merda Fammi vedere No un attimo Un attimo Ma qua è sta Vecchio Cos'è sta merda? Allora Come li hai tagliati? Quella è una via di mezzo Fra il codino e non il codino Che cazzo è? Guarda Non ce l'ha nessuno Nessuno ce l'ha questa merda Va bene Non toccarli più Non toccarli più Lascia così Merda che avevo fatto Che merda Qualca vai Facciamo proprio schifo La natura che l'ho aggiustato Se no A posto? Posso togliermi e osservarmi? Mi sa che l'ho sminchiato un po' adesso Davvero? Non a dritto adesso Ma perché? Ok Basta Basta Non voglio più il mio barber Deve andarsene Trova un altro cliente Ora passiamo al review Signori attenzione Al big review Ciao Ciao Questi sono i risultati Guardate Siamo dei parrucchieri ragazzi Siamo dei parrucca Per essere il primo taglio Devo dire che siamo stati entrambi Molto bravi Adesso però la scelta sarà vostra Dovete dirci Chi dei due Ha un taglio migliore Il sondaggio sarà qui sopra Quindi mi raccomando Votate adesso Ora andiamo a vedere La reazione dell'unico Ed inimitabile Bravi Va bene Sì Nuovo lavoro Chi ha il taglio migliore Se devo scegliere Seguo quel taglio Perché E non so Perché sentiamo È allegro È stato più bravo Frederick Stai da dio Posso dire una cosa Secondo me Oddio no Vabbè non ci Adesso guarda il dietro di David Com'è Guarda Io e David Ci siamo scordati Di fare un outro Al video Quindi colgo l'occasione Per salutare i follower Della settimana Che tra l'altro Non salutavamo Da un bel po' Grazie mille Matteo Fiorelli E Andrea Florian Per seguirci E metterci mi piace Se anche voi Volete essere salutati Seguiteci su Instagram Alla prossima Alla prossima